Mi arriva all'improvviso nella testa. Nel settembre 2022 partecipo a Cattolica al convegno Il Movimento della Speranza, organizzato dalle edizioni mediterranee. Ascolto con molta attenzione un relatore e mi arriva all'improvviso nella testa la parola adrenalina. Mi sintonizzo su questo termine e una voce interiore inizia a darmi spiegazioni. La voce mi dice che l'adrenalina ha condotto gran parte della vita di mia madre, trapassata in tarda età a circa un anno dai fatti. Mia madre era una donna di buon cuore ma dominata da forze istintive che la rendevano litigiosa e aggressiva. Aveva la necessità di provocare litigi in continuazione. Ne tirava fuori di tutti i colori per ubbidire a questa pulsazione che si manifestava tutti i giorni e a più riprese. La sua rabbia era diretta verso i componenti della famiglia, mentre nei rapporti esterni mia madre si presentava come un dolce agnellino. Nel tempo mi sono rassegnata e molte volte mi sono chiesta quale era la causa del malessere che faceva comportare mia madre in questo modo. La voce che mi ha sorpreso così inattesa mi spiega che mia madre era dipendente dall'adrenalina, una vera e propria droga autoindotta da mia madre che la faceva sentire forte ed invincibile e che molte persone, sempre inconsciamente, sono dipendenti da questa sostanza, non solo attraverso la ricerca continua della dose e quindi della provocazione al litigio, ma che tale dipendenza è presente anche in soggetti che praticano sport estremi. Dopo poco arriva la pausa e uscita dalla sala del convegno mi dirigo verso la hall dell'albergo. Mi avvicino ad un lungo tavolo dove sono esposti molti libri pubblicati dalle edizioni mediterranee. Mi accosto alla mostra e prendo un libro a caso, il nuovo libro degli spiriti, Cerchio medianico K. Non conosco questo libro e come sono solita fare lo apro. La prima frase che leggo è l'io e l'adrenalina. Rimango di stucco anche perché pur avendo letto molti libri che trattano di spiritualità e medianità non avevo mai letto qualcosa che riguardava l'adrenalina. Annalisa Vittori Commento. Forse Annalisa che ha delle istanze medianiche sconosciute anche a lei, per la molta attenzione con cui ascoltava il relatore, ha ricevuto questa confessione posto morte dalla madre. Probabilmente l'incontro con il brano del libro è stato condotto sempre dalla madre, che alita ancora nell'ambiente fisico, essendo trapassata solo da un anno. Grazie a tutti.